Ciao ragazzi, grazie 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 di essere qui con me oggi e benvenuti nel ultimo video del 2018 vi avevo già avvisato questo video spero batteria permettendo del microfono sarà un video molto lungo per permettervi magari di dividerlo a metà e godervelo in più giorni perché il prossimo video sarà appunto nel 2019 questo video sarà un video in cui vi farò sentire i 5, 1, 2, 3, 4, 5 trigger che più vi sono piaciuti nel 2018 e come ho fatto a capirlo? semplicemente ve l'ho chiesto sotto questa foto di instagram in cui mi trovate come chiara.asmr e ho adorato fare questa cosa, ho adorato anche guardare tutte le vostre risposte e appunto perché adoro coinvolgervi nella realizzazione dei video più che posso quindi questo video sarà fatto con i trigger che voi, le persone che mi hanno commentato e preferiscono hanno preferito nel 2018 devo dire che alcuni mi hanno un attimo sorpreso non mi aspettavo ci fosse qualche che uno che non c'è e non mi aspettavo che uno ci fosse non mi aspettavo che uno fosse così alto, insomma ci sono un po' di cose inaspettate ok? allora cominciamo subito e al quinto uno, due, tre, quattro, cinque quinto posto troviamo il 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 la linea che farò io volvo a vencare è uno di che era un preferente in assoluto in assoluto è una dafe è una dafe con te che tocco mi ricordo che una volta in un video ho mandato il loop ma sono stati due secondi di video e qui c'era un brush in camera non so perda niente e qui facciamo proprio chiudere gli occhi con questi microfoni si sente tutto dove il mio corpo fa ok ora spennelliamo un po' con l'altro un pennello che ho qui qui lì è così è così è così è così è molto molto delicato è molto molto delicato un pochino sull'nietto un pochino sull'nietto sugli occhi, ecco qui sugli occhi e sull'altro occhio e sull'altro occhio lo sentite il rumore del pennello? sopra la videocamera spero davvero tanto che questa è classificata e spero siete curiosi di sapere qual è il quarto che devo dire mi aspettavo ma non ero sicura ne ero sospetta mi è venuto a roba le tue ore in cerco questi 5 minuti in questa ricestra non dove basta e il quarto uno, due, tre quattro quarto trigger e... vediamo un po' se indovinate a proposito scrivetemi nei commenti secondo voi quale sarà la classifica detto che ero più maglia del 2018 sono curiosa di vedere se c'è un segreto o meno esatto esatto la schiuma, la barba tanti 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 sono rilassati 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 comunque sta schiumina qui pronti 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 con forma perdonatemi se sono un po' fuori fuoco in questa parte ma non so più come rimbostarlo Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Fun fact. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 mi sono anche incantata perché anche al tatto è super rilassata non è vero per me l'adatta ed ha molto lusciato e anche qui non riesco a mettere ok terzo uno due tre terzo trigger di questa classifica quindi siamo già sul podio e questo trigger non me lo aspettavo tanti 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 di voi me l'hanno richiesto e e e e non mezzo e già quindi in realtà non solo questi sulla videocamera ma ma ad esempio questi qui oppure questi qui che mi piace tantissimo mi hanno messo a fuoco mi hanno messo a fuoco no no non so perché ma questo mi ingatta uno dopo l'altro uno dopo l'altro 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 e ancora e ancora tante 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 carezze vedete vedete se vi piace di più per questa carezione qui l'ha messo a fuoco qui o l'ha messo a fuoco sul mio viso sono curiosa l'altro 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 in realtà con il movement io ho compreso anche i visual trigger in generale che sono poi ovviamente però c'è con questi o almeno qualche cosa so io parlando bene rim Lieutenant che 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 è che 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 è e il pletto e il pletto è infine ho fatto un po' di calentini nel viso in questo modo questo video è pieno di cocco e al viso pieno di personal attention mi sono abbinata un pochino per poter prendere i pensieri per poter prendere i pensieri ok 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 inizio qui e ora un po' di visual trick come per l'esame di nervi cranici io spero davvero che questi esame mi siano piaciuti mi abbiano fatto magari chiedere gli occhi ora il secondo secondo classificato in seconda posizione troviamo una categoria di trigger e qui in molti mi hanno già indovinato infatti che è un pochino collegata alla terza classificata infatti al secondo posto troviamo gli in particolare in particolare e zig zag 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 perché sono stati più votati ho deciso di chiuderli tutti in una posizione perché sennò avrebbe occupato tre posti e una classificata 5 non avrebbe avuto troppo senso che alla prossima Alla prossima! ho deciso di farlo perchè vi è piaciuto tanto, 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 tanto ok? pronti per questi tre unusual ones? zig zag, zig zag, zig zag, up, up, up zig zag, zig zag, zig zag, up, up, up zig zag, 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 zig tic tac, tic tac, up, up, up Tic-tac, 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 t zig zag zig zag up up zack 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 cac 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 devo prendere avviato mi si è chiuso il naso appena iniziato a registrare e vedo cac 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 tigga 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 probabilmente per questo mezzo questo piccolo ticca ticca del lup perchè realmente non ce la sto facendo con il fiato ho il naso da pato e non ce la faccio assolutamente con il fiato ok siete curiosi di sapere qual è il primo numero uno trigger maggiormente piaciuto nel 2018 provate a indovinare che io mi le aspettavo in classifica ma non pensavo raggiungessi primo posto la medagliatore qualcuno in me ne è anche soltato al suolo esatto il nostro gel, lattino, squishy innattacchissimi mi chiedete quali ogni giorno dove io l'abbia comprata? io rispondo sempre cercate chiaccio lo squishy su internet il problema è che adesso lo volevo ricomprare per averne una scorta ma non lo trovo più finito vi ragionnerò se ritorno al mercato per ora è pulito qui e ringrazio, non ringrazio mai abbastanza Carlotta del canale Le Notte del Silenzio SNL che da due anni a questa parte è il mio preferito, non solo tu per aver introdotto il latino proprio in tutti i canali YouTube Italia e ringrazio lei che io ho questo oggettino di non popopiato quindi le do sempre credito e ringrazio lei che apri un classificato mi piace questo close up come se ci sono ecco ho visto bene adesso prendo anche proprio dei suoni squishy però prima faccio questi suoni prima di cambiare in guanagora e mi piace troppo che le mie ore siano pilate ok buonissimo sapete che il girador un grandissimo attente in questa classifica è il don clicking quindi si aspettavoci forse ed era sesto classificato comunque osservandolo sto pensando che volendo potrei provare a farlo io e penso che mi sembra quasi, vedete? una villa un po' spessa e soprattutto la spugna provarò a fare una cosa che è simile le sopra sono palline di puliziro, lo penso, colorate provare un po' attraverò non lo so io ho dài che Carlo voleva poter capire un po' di Videro che va JENNI e di fisica quantissima, se le penne dalle sue labbra vi metto, spero di ricordarmi, le sue link qui sotto e lega il suo canale si, perchè trovo che lei abbia fatto troppo e pochi riscritti rispetto al talento che ha, ve lo giuro è anche una grande ispirazione per me a volte anche dei piccoli gesti che fa, qualcosa che mi piace davvero tanto di sui video è la delicatezza con cui tocca gli occhi e che a volte cerco veramente di invitare perchè non ha impatto in questo senso, per esempio se volete provato a darvi anche dei suoi cittimenti di soli come posso costruire questo? e questo è un incargo con il solito di quella che ora riempio con le altre grande assintera anche il top e anche questo su si è matto in click anche nella classifica e anche lina unipollegario però stigliano soffrati la cosa che ho pensato è che ad esempio anche gli announcements sono molto rari da provare in giro un po' si fanno non so perché anche il cittadino come possono far ricordare la scrivo da pari e sono tutti perché per la fine non in molti fanno quindi non in molti fanno quindi non in molti fanno quindi fanno tutti e anche non 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 conosco un discorso di fine anno quest'anno e a quest'ohra e pensando proprio ai canali ma anche alla mia vita ero completamente diversa sono molto fiel io ho fatto quest'anno sia nel canale sia nella mia vita una grossissima cosa che mi è mancata quest'anno è che io non ho promesso di fare assolutamente un viaggio fuori dall'Europa e spero davvero tanto di riuscirci, quest'anno è stato un parono di sacrifici per quanto riguarda quell'aspetto ma spero ne varranno davvero bene se vi conosco bene in questo momento avrete milioni di prevedini e il canale ha avuto dei miglioramenti incredibili e andando a quest'ora quest'anno eravamo circa 110.000, al massimo 120.000 persone ora siamo in 300.000 e più voglia, voglia pura abbiamo comprato una nuova videocamera anzi, mi avete permesso di comprare una nuova videocamera perché vi ricordo che l'ho ottenuta tramite l'applicazione Teams quindi ho ricevuto il vostro aiuto quindi, grazie sono riuscita anche a comprare questi microfonini i rod li vedete qui e qui sono riuscita a comprare il nuovo portafondali un nuovo sfondari non più se c'è non più se c'è non più se c'è non più se c'è sento di essere riuscita anche molto di qualità non ho sicuramente tanto impegno ma stanno cercando di variare il più possibile i contenuti sul mio canale non ha innoiarvi mai sempre i suoni di video e io voglio ringraziare solamente il cuore perché anche io sono banalmente su Instagram ho tantissimi messaggi al giorno e ricevo un amore infinito un affetto infinito di messaggi che toccano veramente il cuore io non sento mai di veritarli fino in fondo però sono infinitamente grata che qualcosa che io amo fare sia amato tante persone che possa aiutare davvero che possa influire davvero positivamente su delle vite che sono incredibilmente grande per come lo vedo io per come lo vedo io questa sera non ecco io che ho conosciuto alcune colleghe di Youtube di persone la mia pagina e io ne sono felicitissima e spero che il 2019 mi mi stupisca da tante punti di vista spero che mi diamo le gioie ma anche tante emozioni spero che non sia banale e lo spero anche per voi quindi vi auguro un buonissimo anno siate fiduciosi ma impegnatevi per i vostri propositi non dite per finire l'esame o per lo studiate una cosa così ora per i vostri ora farò farò non riuscirò a stancare le mie mani dal gelatino farò un countdown da 30 a 0 per prepararmi la buonanotte per i vostri 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 28 27 27 25 24 23 22 24 19 18 17 16 11 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 12 14 15 15 16 16 16 questo sesso good nights and dreams bon nuit good night buonanotte pasticcini buonanotte buonanotte bacione che le spera che le spera